Allora, una vittoria oltre ogni pronostico, una rimonta incredibile. Una rimonta pazzesca, i numeri ci hanno raccontato la storia di un testa a testa, per cui si può parlare sicuramente di vittoria, di un ottimo risultato perché la città ha imboccato la sua strada. Dopo nove mesi di campagna elettorale sappiamo qual è la direzione del futuro, sappiamo chi i lecchesi hanno scelto, sappiamo però che 31 voti di differenza sono sufficienti, ne sarebbe stato sufficiente anche solo uno, però ci raccontano la storia di una città da ricompattare, da unire e quindi voi vi aspettate che io dica sono il sindaco di tutti? Sì, lo sarò il sindaco di tutti ma vi dico di più, sarò il sindaco di ciascuno perché ciascuno deve sentirsi rispecchiato nell'attività non solo del proprio sindaco ma dell'amministrazione. Quindi questo è un impegno che prendo di fronte a tutti voi, di fronte ai cittadini e non vedo l'ora di iniziare a lavorare domani. No, no, i voti sono stati tutti uguali, al secondo turno non ci sono sigle, non ci sono partiti, non ci sono apparentamenti. Nessuno può assumere o intestarsi un vantaggio rispetto agli altri se non i cittadini che in queste due settimane, in questi 15 giorni hanno ulteriormente avuto modo di riflettere sulle preferenze espresse nel primo turno. Quindi direi che a questo punto devono venire meno le appartenenze da tifoseria e bisogna invece lavorare davvero tutti i giorni per il bene della nostra città. Lungo la strada che le chiesiano... grazie del sindaco. Allora ha vinto il progetto, ha vinto una squadra e hanno vinto le persone. Ha vinto un progetto perché davvero era di un'intensità, di una profondità, credo che avete avuto modo di leggerlo e di conoscerlo in lungo e in largo, ma soprattutto ha vinto una squadra, una sintonia di un modo di vedere oggi la città che ha avuto il consenso, l'apprezzamento dei nostri lecchiesi. Quindi in questo senso mi permetto di dire che ha vinto un modo di guardare al futuro che è di speranza e di fiducia. E questa fiducia e speranza voglio restituirla e dimostrarla nei prossimi anni che mi toccherà amministrare la città. Mi sento... diciamo che è finita una stagione della vita importantissima per me. Questa campagna elettorale è stata lunga oltre ogni aspettativa, però ci ha dato anche la possibilità di conoscere bene le persone, di approfondire i temi. Mi sento sollevato, ero sereno ieri perché ero in coscienza a posto che tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme come coalizione ha dato il proprio risultato. Oggi sento una voglia, un'energia pazzesca, di iniziare. Senta, come ha venuto insieme una...